Verona Inter 2 a 2 signori, il nostro campionato finisce con un bel pareggio, insomma una bella partita e parentesi scusate per la voce, non mi è ancora completamente ritornata, speriamo che mi ritorni in tempi brevi perché dove far video ogni volta con questa voce è complicato, chiuso parentesi quindi si chiude con un ruro camponesco, un pilotecnico pareggio, 4 bei gol, l'Inter ha fatto due gol molto belli per azioni e costruzione del gol proprio in sé, il Verona ha fatto la partita che mi aspettavo una partita a Gagliardo, una partita davanti al proprio pubblico, diciamo così, che ha cercato di vincere era una partita di fatto inutile, quindi insomma una partita che non contava nulla per nessuno però insomma è stata giocata comunque bene, l'Inter chiude con 94 punti mi pare vado a dare un'occhiata al volo, chiudiamo con 94 punti e solo due sconfitte, sì solo due sconfitte e quindi insomma due sconfitte di cui una personalmente mi ha dato molto fastidio entrambe tutto col sassuolo, quindi veramente vabbè comunque insomma direi che il nostro campionato resta chiaramente un campionato fantastico, una calvarcata bellissima ora vedremo cosa succederà, mi permetto di dire ai tifosi del Verona siete abbastanza ridicoli, ogni volta che Di Marco toccava il pallone, i fischi Di Marco qua, Di Marco là, ma quanto siete ridicoli ma quanto siete ridicoli, questo perché? Perché Di Marco aveva risultato nella partita d'andata quando Henry aveva sbagliato il calcio di rigore e cosa avrebbe dovuto fare Di Marco, ditemi avrebbe dovuto prendere la palla e fare autorete? a volte io credo veramente che la tifosi del Verona sia una delle tifosi dei peggiori in assoluto ma sotto ogni punto di vista e oggi non ha fatto altro che confermarlo ragazzi perché prendersi da qualcuno, un giocatore contenuto ha giocato una loro squadra boh, vabbè insomma, sinceramente io lì non l'avevo capito poi alcuni miei amici nei nostri chat interisti mi hanno detto no, ce l'hanno con lui perché quando nella partita d'andata sbagliò il rigore lui esultò rendiamoci conto, rendiamoci conto quanto possa essere a volte baccata, baccata la testa di alcuni tifosi di alcune tifoserie, veramente una roba allucinante signori, diciamo che io anche a sto giro non ho fatto la reaction perché, ripeto, non aveva senso anche perché comunque sinceramente ho fatto un po' di zapping mi sono messo a vedere un po' le altre partite le partite quelle un po' più succose inerente alla lotta salvezza e come avevo pronosticato all'inizio anno il Frosinone, non perché ce l'abbia col Frosinone perché, ripeto, anche una squadra, una città che mi sa simpatica a retrocede perché in panchina c'ha un allenatore come Di Francesco che negli ultimi anni ha praticamente collezionato solo fallimenti io non riesco a capire come faccio un allenatore come Di Francesco ad avere continuamente una panchina in Serie A credo che lui sia il classico esempio di come la meritocrazia non solo nel calcio ma in generale non esista non esiste la meritocrazia perché un allenatore come Di Francesco non dovrebbe più allenare in Serie A può essere un buon allenatore da Serie B per provare a salire ma in Serie A non è roba sua vive di rendita di una partita fatta bene millenni fa con la Roma, appunto quindi diciamo che ho fatto un po' di zapping per andare a guardare un po' le partite, diciamo così, dalla lotta salvezza quindi anche perché ho deciso di non fare la live reaction torneremo a fare live non appena la voce sarà tornata quella vera perché fare un video di 7-8 minuti ce la faccio ma se devo parlare continuamente in live per un'ora o due ore potrei far fatica quindi attendiamo fiduciosi che la mia voce torni completamente e poi sicuramente ragazzi torneremo a fare live quindi soprattutto chi mi segue su TikTok ragazzi non sono sparito e questa è la spiegazione, questa è la motivazione del perché ultimamente ho fatto pochi video proprio per questo perché ragazzi è una settimana, anzi di più quasi due settimane che ho questo problema alla voce e non si risolve, il senso però non si sta risolvendo in maniera molto molto lenta nonostante mi stia bombando di medicine detto questo signori io vi rimando sicuramente ai prossimi giorni vi ringrazio, insomma, se avrete comunque visto il video nonostante queste condizioni di salute noi ci rivediamo nei prossimi giorni visto che ci sarà comunque ora finisce il campionato si inizierà già a parlare anche di mercato vedremo appena, diciamo ci sarà anche il CDA di Oc3 ufficialmente all'interno dell'Inter, abbiamo sentito anche Marotta che giustamente ha ringraziato Steven Zanga all'inizio della partita sono stati premiati Lautaro, Cialanoglu e Bastoni come i migliori giocatori del campionato giusto che sia così quindi signori miei ci rivediamo nei prossimi giorni e vi saluto vi ricordo, insomma, infine di iscrivervi al canale ragazzi perché soprattutto su YouTube facciamo un po' più fatica quindi vi chiedo cortesemente di iscrivervi, condividere, mettere like e commentare perché anche su YouTube vorrei portare avanti il discorso in maniera, diciamo, equivalente a quello che sto facendo su TikTok vi saluto ragazzi vi auguro un buon inizio settimana visto che domani è lunedì ma prima di farlo, come sempre, forza forza, forza Inter a tutti a tutti